Benvenuti a Noi Chiesa Diocesi Liguri. La trasmissione voluta dagli uffici per le comunicazioni sociali della regione ecclesiastica Ligure. Questa settimana iniziamo riproponendovi in apertura la sintesi dell'omelia pronunciata da Monsignor Guido Marini in occasione della celebrazione in suffragio di Benedetto XVI, il Papa in merito che si è spento all'età di 95 anni. Monsignor Guido Marini per sette anni e mezzo è stato al fianco del Papa tedesco come maestro delle celebrazioni pontifice. Vediamo. Un pastore grande, nobile, moderno. Parole che rivelano la stima per Benedetto XVI. A pronunciarle in cattedrale a Tortona è Monsignor Guido Marini per sette anni e mezzo al fianco del Papa tedesco come maestro delle celebrazioni pontifice. Mi piace pensare a lui, dice scavando nei ricordi, come ad un profeta di salvezza e di bellezza. Preghiamo anche perché un giorno presto egli possa essere dichiarato dottore della Chiesa. Il Vescovo di Tortona passa in rassegna i punti di questa eredità. Papa Benedetto spiega ha insegnato la bellezza della fede di un Dio amico e alleato. Estrometterlo è il grande dramma dell'uomo di oggi. Ha anche insegnato la bellezza della ragione che si apre alla fede. E ci ha aiutato e ci aiuterà a non incorrere in quel temibile errore che è la ragione chiusa in se stessa, motivo di ideologie perniciose come le tante che sono presenti nel nostro mondo e che possono essere riassunte nel tentativo disperato e destinato al fallimento da parte dell'uomo di essere lui il creatore di se stesso. Prosegue Marini. Papa Ratzinger ha insegnato la bellezza della verità che è Gesù, unico vero protagonista della nostra vita e infine conclude in modo mite e dolcissimo con quei suoi occhi luminosissimi e profondi ha insegnato la speranza e la libertà. E' per questo che ha avuto il coraggio e la forza di ritirarsi, per la libertà nel servizio, per la libertà da ogni forma di potere, per la libertà del cuore che non ha messo mai se stesso al centro. Ora andiamo a Savona dove la teologa Cristina Simonelli, presentata ed introdotta dal teologo savonese Giuseppe Noberasco, ha tenuto una conferenza nell'ambito del Sinodo Diocesano sul tema Le passioni della fede. Il 20 e 21 gennaio si terrà nel seminario di Savona l'ottava Assemblea del Sinodo Diocesano, venerdì 20 alle 18.30 alla messa e alla presentazione dei progetti. Uno spazio sarà dedicato alla proposta di un pellegrinaggio in Terra Santa e al bilancio della mostra Ritratti di Fede, mentre sabato 21 gennaio saranno presentate le riflessioni pastorali che le otto commissioni stanno portando a termine su molti temi, dai giovani alla cultura, dalla laudatossia alla chiesa delle genti. Parrocchie, associazioni e istituti religiosi hanno ricevuto le schede di riflessione sui temi delle commissioni e sono sollecitate a elaborare entro i primi di marzo i loro contributi, che verranno tenuti in considerazione nella fase di riflessione sulle indicazioni normative. Nella sessione di maggio si discuterà della prima parte del libro sinodale, la seconda verrà consegnata a settembre perché venga votata in ottobre. La votazione del documento finale, paragrafo per paragrafo, avverrà fra l'8 dicembre 2023 e gennaio-febbraio del 2024. Da qui partirà la seconda visita pastorale del Vescovo alle parrocchie con la presentazione del libro sinodale. In questo articolato contesto, Cristina Simonelli, docente di patrologia e storia della Chiesa Antica la Facoltà Teologica dell'Italia settentrionale ha tenuto la conferenza Le passioni della fede per condividere i cammini di ciascuno. Simonelli ha sottolineato la bellezza iscritta nel titolo stesso del sinodo Chiesa di Savona prendi il largo confidando. E questa è in maniera fondamentale la passione della fede, cioè l'essere raggiunti da cui confidare e la passione in senso attivo di andare. In questo incontro abbiamo insieme scelto di tenere il plurale perché possono essere molte questa forma attiva, passiva di essere raggiunti e di impegnarsi. Ci sono anche delle condizioni di possibilità per poterle tenere insieme, di abitabilità, che sono anche vicini ai luoghi dell'epifania. La dioce di Savona sta attraversando un periodo, appunto, come diceva lei, di sinodo. Ecco, qual è l'importanza appunto del sinodo per una chiesa locale? Ma è un'importanza capitale con alcuni, una grande risorsa con evidentemente alcuni rischi. I rischi sono quelli di un super lavoro, i rischi sono quelli di dare stanchezza ripetendo cose simili, ma in compenso l'occasione è grande, cioè quella di essere e sentirsi effettivamente una comunità tutta in cammino, tutta convocata, tutta provocata e anche, se vogliamo, consolata, perché anche le difficoltà, se vissute sulla stessa strada da cui sinodo, prendono un'altra dimensione. Questa mattina, invece, ha tenuto un lezio magistralis per il clero diocesano. Il tema è stato la fede del prete, insomma, quali sono stati, diciamo, i riscontri avuti da parte dei sacerdoti alla sua conferenza? È stato un incontro estremamente affabile e abbiamo scambiato opinioni, risonanze, anche elementi critici che entrano nel discernimento della fede, che in questo caso, nel caso ministeriale, non è soltanto la passione in sé, diciamo, ricevuta e di azione, ma è anche quella condivisa, che diventa promotiva al cuore della comunità cristiana. Nell'ambito della 34esima giornata per l'approfondimento e lo sviluppo del dialogo fra cattolici ed ebrei, lunedì 16 gennaio alle 17, nella Sala K del Centro Diocesano Pastorale Città dei Papi, l'Ufficio per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della Diocesi di Savonanoli e la Comunità Ebraica propongono una conferenza dal titolo Consolate il mio popolo, comunicare le fedi oggi. Interverranno il rabbino capo della Comunità Ebraica di Genova, Giuseppe Momigliano, il Vescovo Geromarino, Amnon Cohen, medico e già presidente della Comunità Ebraica della Liguria, e Natasha De Rosso, delegata per il dialogo ecumenico ed interreligioso della Diocesi di Savonanoli. Il giorno successivo, martedì 17 gennaio alle 18, nella Sala Quadrivium di Genova, incontro sul tema Uno Sguardo Nuovo. Anche in questo caso è previsto l'intervento del rabbino Giuseppe Momigliano, che affronterà il tema insieme a William Jordan, pastore della Chiesa Valdese di Genova, e a Don Paolo Costa, docente di Sacra Scrittura al Pontificio Istituto Biblico di Roma. Ora veniamo a Chiavari, nella Diocesi di Chiavari, dove le parrocchie dell'ambito di Chiavari, Camposasco e Leivi hanno proposto una iniziativa che risponde ad un bisogno concreto degli studenti e delle studentesse del Chiavarese. Uno spazio libero, dove mangiare il panino portato da casa o la focaccia comprata in pausa pranzo. L'ingresso è totalmente gratuito, non è necessario nessun tipo di iscrizione, non è uno spazio, un momento religioso. È l'area picnic che aprirà lunedì a Chiavari, all'Oratorio dei Filippini, con ingresso su Via Raggio. Nasce dal vedere i ragazzi che durante la pausa pranzo mangiano per strada, sulle panchine, sulle scalini, sotto il pronao della cattedrale. L'idea, la prima in assoluto in zona, è venuta alle parrocchie di Chiavari, Leivi e Camposasco con l'aiuto della pastorale giovanile della Diocesi, sono parrocchie riunite nel medesimo ambito, che da tempo collaborano insieme per varie iniziative pastorali, tra le quali anche questa. Qui i ragazzi che cosa potranno trovare? Allora, qui potranno trovare innanzitutto un educatore professionale fornito dalla cooperativa Sentiero d'Arianna. Poi potranno trovare alcune cose molto semplici, delle sedie, dei tavoli per accomodarsi, un fornetto microonde, un bollitore, i bagni, i servizi igienici e anche una linea wifi e un calcetto. Perché la presenza di un educatore? Cosa potrebbe essere utile con questa figura per i giovani? Un educatore intanto perché c'è una necessità di aprire, di chiudere questo spazio, ecco. E poi ci sembrava importante anche una figura di riferimento per i ragazzi, i ragazzi si possono rivolgere a lui, anche perché questo spazio inizialmente è stato strutturato in modo molto essenziale. Ci piacerebbe che poi i ragazzi, se hanno delle idee, interagendo con l'educatore, le possano realizzare nel momento di apertura di questo servizio. Si parte il 16 gennaio, l'ex chiesa dei Filippini sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 14.30, forse anche una mezz'ora in più. Nel volantino che è circolato e che molti hanno ricevuto si parla di 12.30 e 14.30, ma non poche persone ci hanno segnalato che escono da scuola o alle 2.00-10.00 o alle 2.00, quindi sicuramente nelle prime due settimane estenderemo questo servizio fino alle 15.00 e se questo corrisponde a un reale bisogno o necessità l'orario sarà fino alle 15.00. Avete iniziato a parlarne anche nelle scuole, primo e secondo grado, ricordiamo, i ragazzi ne parlano, insomma un'iniziativa semplice ma nuova, probabilmente è la prima volta che viene anche realizzato. D'altra parte quali sono un po' le necessità dei ragazzi che escono da scuola in quegli orari? Come dicevo prima, abbiamo visto ormai da tempo che durante questa fascia oraria i ragazzi sono per strada, per loro non c'è niente ecco, e quindi ci sembrava importante raccogliere questo bisogno che veniva comunicato silenziosamente, bastava vedere, constatare. Abbiamo iniziato a comunicare l'iniziativa ieri, ci ha stupito il riscontro numeroso e positivo, cioè quindi senza saperlo abbiamo intercettato un bisogno reale. Stiamo dialogando con il Comune di Chiavari perché questo servizio naturalmente ha dei costi, il costo dell'educatore, il costo delle utenze e quindi stiamo dialogando per vedere se il Comune di Chiavari può contribuire concretamente in questo senso e i primi incontri sono andati bene, sembra che ci sia attenzione da questo punto di vista. Ora un appuntamento culturale rivolto davvero a tutti. Parliamo del secondo appuntamento per incontro alla città, la rassegna che sarà ospitata alla Sala Quadrivion di Genova. Mercoledì 18 gennaio alle 18 si parlerà di giovani e di pace. Educare alla pace è ancora possibile, i giovani e la speranza è il tema scelto per il secondo appuntamento del ciclo Incontro alla città in programma mercoledì 18 gennaio alle 18 alla Sala Quadrivium a Genova. Relatori saranno il pedagogista Daniele Novara e il condirettore della Caritas di Cesana di Savona Don Adolfo Macchioli. Incontro alla città è un'occasione di riflessione che la chiesa che in Genova vuole offrire alla cittadinanza indipendentemente dalla fede dei partecipanti facendo seguito alla lunga e felice esperienza di Cattedrale Aperta che per 12-13 edizioni ha accompagnato la riflessione annuale della nostra comunità di Cesana. L'impianto nuovo vuole coinvolgere di più il mondo civile e cerchiamo sempre di tenere alto il livello degli ospiti, dei temi e che sia occasione di dialogo e di crefita sia per i partecipanti mediati all'incontro sia poi come ricaduta di riflessione per le nostre comunità nelle settimane successive ritornando sui temi affrontati. Il sottotitolo del percorso annuale è per una cultura del prendersi cura filo rosso di una riflessione iniziata lo scorso anno. Nasce da una riflessione a partire dal Magistero di Papa Francesco tolato infinite volte sul tema del prendersi cura ma direi proprio a partire dall'omelia di inizio del suo pontificato e noi abbiamo voluto declinare questa dimensione sotto vari aspetti ma sottolineando la necessità di creare una cultura cioè non semplicemente occasioni estemporanee di attenzione all'altro cosa che certamente nella nostra società ci sono ma che diventi proprio un forma mentis e un modo efficace per plasmare la nostra società, la nostra sensibilità cristiana e civile. Quindi abbiamo iniziato lo scorso anno con una riflessione chiave piuttosto sociologica continuiamo adesso con questa riflessione di chiave pedagogica e che si incarna sul tema della pace per evidenti motivi di attualità e posso annunziare che il prossimo aprile abbiamo già come nostro ospite ha confermato la sua presenza il Cardinal Ravasi che ci aiuterà a leggere questo tema in chiave biblica. In autunno poi pensiamo di continuare probabilmente anche cercando tematiche di ordine psicologico e medico. Il tema scelto per l'incontro del 18 gennaio è quello della pace declinato secondo un'accezione particolare la cura per l'educazione dei giovani in un contesto di iper-semplificazione che talvolta scarta l'impegno come presupposto per percorrere tappe successive il che assume un valore ulteriore nel cinquantesimo anno dall'approvazione della legge che legittimò il servizio civile quale alternativa al servizio militare. Emergerà soprattutto come la pace una cultura della pace sono da un lato un'espressione di prendersi cura autenticamente dell'umanità e dall'altro che il prendersi cura invece dei nostri giovani un'attenzione pedagogica autentica deve tenere conto di questa dimensione e di aiutare a sradicare quelle radici di violenza che sono certamente nel nostro cuore ferito dal peccato ma che in questa società rischiano di alimentarsi in una maniera anche molto superficiale i discorsi intorno alla guerra e all'armamento rischiano di essere fatti in una maniera molto emotiva di pancia e talvolta di propaganda credo che avremo di buoni anticorpi per la nostra riflessione dopo questa serata Riflessione chiamata dunque a fiorire nell'ottica non solo e non tanto di fornire una serie di buone pratiche per accompagnare giovani e giovanissimi lungo il cammino di costruzione della pace quanto piuttosto di avviare processi offerti alla comunità civile ed ecclesiale La nostra, anche fisicamente, il fatto che non facciamo più gli incontri in cattedrale non è per diminuire l'identità cristiana della nostra proposta ma per dare un senso di accoglienza e di appunto andare incontro a chi potrebbe avere delle prevenzioni altrimenti e dare, suscitare appunto un processo di riflessione di maturazione, di incontro, di dialogo a tutto campo spero che questo che è già avvenuto continui ad avvenire e si esegupe ulteriormente A Tortona, in un teatro civico davvero gremito l'ensemble Roma 3 ha interpretato alcuni dei brani tradizionalmente meno eseguiti di Don Lorenzo Perosi, il compositore tortonese che per lo più è noto per i suoi brani di musica sacra in questo caso invece sono stati eseguiti i brani di musica da camera il concerto ha coronato e concluso il Perosi Festival 2022 ma è stata anche l'occasione per presentare alla città una nuova collaborazione in ambito culturale vediamo Con il concerto al teatro civico di Tortona si è chiuso il Perosi Festival 2022 che quest'anno commemorava i 150 anni dalla nascita del compositore tortonese Don Lorenzo Perosi ad esibirsi l'orchestra Roma 3 insieme al pianista Matteo Bevilacqua Siamo felici di portare per il secondo anno di fila di nuovo qui a Tortona la musica di Lorenzo Perosi grazie a quest'autore abbiamo registrato i primi nostri due album con l'etichetta Naxos l'anno scorso i quintetti numero 1 e 2 e quest'anno il terzo e quarto quintetto insieme all'integrale della produzione per trio è una bellissima occasione felice di essere nella città che peraltro ospita i resti del maestro Perosi e speriamo che questo progetto con la città di Tortona e con Naxos possa proseguire anche per i prossimi anni tenuto conto anche della bellezza del festival dedicato a Perosi che proprio in questa città trova luogo soddisfazione è stata espressa dal direttore artistico del festival Don Paolo Padrini che è già al lavoro per la nuova edizione del 2023 Siamo onorati di essere qui questa sera per questa serata finale del Perosi Festival 2022 già nel 2023 ma in qualche modo se vogliamo anticipatrice di una nuova stagione che stiamo già producendo ed elaborando è stato un concerto molto bello ricco e ricco soprattutto della parte di repertorio perosiano che pochissime volte viene ascoltata e noi siamo onorati di averla potuta proporre al numerosissimo pubblico presente in questa serata con un complesso musicale così importante quale quello che è stato ospite a Tortona siamo contenti e il bilancio del nostro festival è un bilancio molto importante che ha visto delle grandissime partecipazioni e che si conclude questa sera con l'unico concerto cameristico della parte autunnale e invernale del festival un festival dedicato alla musica sacra che però in qualche modo non è discordante rispetto a quanto questa sera abbiamo ascoltato musica cameristica che però trova in Perosi un interprete di cuore e di spirito che fa passare in ogni nota la sua spiritualità e la sua fede il concerto conclusivo del Perosi Festival 2022 ha suggellato l'avvio della collaborazione con l'archivio Felice Gianni nel 200esimo anniversario della morte del pittore e decoratore di interni italiano fra i massimi esponenti del neoclassicismo nel corso della serata è stato proposto un cortometraggio di Sara Bertoni laureata alla scuola di cinematografia Lucchino Visconti con letture musiche di Raffaello Basilio laureando alla civica scuola di musica Claudia Bado il corto è stato prodotto dal nostro studio perché vogliamo dare comunque un segno tangibile una presenza nel panorama dell'arte dei nostri grandi artisti e questa serata sono anche veramente emozionato è la prima volta che mi scrivo delle cose perché normalmente sono prolisso e quindi parlo delle ore questa sera sono veramente emozionato perché questi 200 anni li ho sentiti e glieli dedico veramente di cuore Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con noi chiese al nostro viaggio alla scoperta della vita delle diocesi della regione ecclesiastica Ligure grazie per averci seguito ci rivediamo la prossima settimana